Ciao, sono Trici e in questo video vi porterò all'Oster Park, uno dei parchi più belli della città di Amsterdam. Sigla! Sono arrivato da poche ore ad Amsterdam e devo già prepararmi a raggiungere l'Oster Park, dove ho appuntamento con il primo membro della community di Whamshowers, che questa sera mi ospiterà al Sema Tricicletta. Prima però mi lancio alla scoperta di questo interessantissimo parco, sempre rigorosamente su due ruote. Pedalare fra i parchi di Amsterdam è un'esperienza assolutamente rilassante. Quasi terapeutica. A fine giugno, Oster Park, il parco ad est della città, è una vera osi di pace, lontano dal turismo classico. La breve sosta sulla passerella ai bordi del laghetto mi permette di perdermi osservando Cini, Germani reali e Ironi cenerini. Questo monumento che vedete commemora l'abolizione ufficiale della schiavitù nei Paesi Bassi e nel loro impero. Il vero motivo per cui oggi sono qui ad Oster Park è perché mi devi incontrare con Giska, cicloviaggiatrice conosciuta tramite la community di Whamshowers, che mi ospiterà per una notte qui ad Amsterdam. Non appena incontrata mi porto subito dai suoi amici e mi unisco al loro picnic serale sul soffice prato del parco. È emozionante per me vedere l'interno di un appartamento di Amsterdam e come mi immaginavo ci sono fiori ovunque, vetrate luminose e nella cameretta allestita per me potrò far riposare triciclette in compagnia delle biciclette dei ragazzi. Se ti è piaciuto il video metti un like e continua a seguirmi perché ti porterò nel cuore della città, ovviamente in sella tricicletta, da non perdere, ciao!